E' una televisione che cerca di informare i cittadini su tutto quello che succede nel comprensorio. Per fare questo tipo di informazione e farlo in questa maniera ovviamente abbiamo fatto incazzare i mafiosi. La famiglia mafiosa di Partilico si chiama la famiglia mafiosa vitale, dei vitale, detti fardazza, significa straccioni. Ora dire a una famiglia mafiosa straccioni si incazzano. Abbiamo subito qualcosa come 40 gomme tagliate, macchine, vedi sparate delle macchine, freni, delle macchine tagliate, macchine bruciate, un'aggressione fisica. Hanno cercato di ammazzarmi. Da sei anni sono sotto tutela dei carabinieri. Vedevo che gli altri giornali della zona davano solo le iniziali invece di dare nome e cognome o mettevano pure di mettere le fotografie in senso del rispetto. Quando noi invece abbiamo cominciato a dare nome e cognome, mettere le foto, li abbiamo costretti anche all'altra informazione, a venirci dietro altrimenti le persone non li guardavano più. Quindi abbiamo anche corretto l'informazione. Siamo in chiusura a un ultimo servizio che riguarda la vista dei ragazzi di Volpiano in provincia di Torino, ieri qui nei nostri studi. Di sicuro ai miei genitori racconterò comunque la storia di questo grande uomo che comunque combatte ogni giorno la mafia. Comunque mi piacerebbe molto far passare questo messaggio che lui oggi ha fatto passare a tutti i miei ragazzi. Che uomo coraggioso, nega le sue paure ma forse ne nasconde sotto più balfoni e continua a lottare nonostante le minacce e le aggressioni. Mi ha fatto capire che anche una persona piccola può essere grande. Una parte della storia di Bettino e il passato si è svolta qui dentro. L'infanzia l'abbiamo vissuta nella tenuta dello zio Cesare Mansella. Era il mafioso, il capo mafia di allora. Tutti i mafiosi che apparentemente non ci facevano mancare nulla. Tutto finisce proprio in una giornata di primavera esattamente il 26 aprile del 1963, quando lo zio Cesare Mansella viene ucciso per l'altro. E Peppino si è espresso in questo modo, se questa è mafia io per tutta la vita mi batterò conto. 1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 97, 99, 100. E' stato interessante parlare col fratello di Peppino Impastato. Abbiamo rivistito la sua storia, che conoscevo dal film, ascoltando le parole di uno dei protagonisti di quella tragedia. C'è nessuno mischiato con niente. C'è delle persone che incontri per strada, delle persone normalissime, che si ritrovano però a parlare di pizzo. Perché volevano aprire un negozio a Palermo e sapevano che tra le varie cose da pagare c'era anche il pizzo. Allora si ritrovano ad affrontare questo problema e si dicono subito che non l'avrebbero mai pagato. La prima attività geniale che organizzano i ragazzi è quella di attaccare nel centro storico di Palermo 5.000 adesivi con la frase un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Il passaggio successivo era impegnare in questa scelta anche i turisti. Allora nasce l'Italia di Agio Pizzo Trave. I servizi che abbiamo offerto in qualche modo per il vostro viaggio sono tutti estratti dalla lista di Agio Pizzo. Per cui dai trasporti all'alloggio, ai posti in cui andremo a mangiare i ristoranti, sono tutti in qualche modo estrapolati dalla lista degli uffici. Sostenete i commercianti che devono ridere. Sosteniamo, lo state facendo, lo stai facendo pure tu, in questa settimana lo stai facendo pure tu. Sappiamo che la situazione di Agio Pizzo si trova in un bene confiscato. Volevo chiedere come vi trovate, come vi sentite a lavorare in un luogo così? Assolutamente tranquilli perché l'esperienza di beni confiscati dati ai ragazzi è già assodata. Sono anni che funziona così in Italia. Lo che mi si presentava davanti era una scena da film, che avevamo solo visto i film americani di guerra. Naturalmente cercavamo di capire cos'era successo e intuito che cos'era successo. cercavamo di capire chi era l'obiettivo dell'attentato. Quindi mai al mondo potevamo pensare che quella persona alla guida, che era il giudice Falcone, lo apprendiamo dopo. Vengo avvicinato da due signori in borghese senza divisa, mi sventolano in faccia un tesserino di polizia e mi costringono a dare il rullivo fotografico. Antonio che cos'ha fotografato in quei primi istanti? Penso che questa serie di fotografie non venga più fuori. Comunque rimango ottimista sul futuro della nostra terra e quello che mi fa pensare tutto questo sono i vostri volti ragazzi. 5 uomini della scorta in via D'Amelio, dove abitava la sua mamma. Era passato per salutarla. Non fece caso alla piccola macchina che era posteggiata davanti al cancello, una 126. Sono le 16.55 quando Paolo e la sua scorta si incamminano nel vialetto del palazzo di via D'Amelio. Fanno solo pochi passi, poi la 126 esplode. Un ragazzo che frequentava il nostro locale diceva che il nostro locale dava molto fastidio perché era molto frequentato, venivano tanti ragazzi e lui conosceva delle persone importanti di Palermo a cui questo locale dava fastidio e quindi voleva che si preparava un regalo di 400 euro in denaro e si riportava a queste persone importanti di Palermo e la notte stesse noi chiamiamo il maresciallo dei carabinieri. Il locale pian piano iniziava a svuotarsi. Bene, tutto questo mitire il molle è durato fino a febbraio del 2005. Quando inizio, io personalmente sento di questi manifesti che vanno in giro per Palermo con l'ha scritta un intero popolo che paga il pizzo, un popolo senza dignità. Ci dissero ma comunque da questo momento in poi non siete più soli, potete contare su di noi. Da quel momento in poi, al 5 marzo del 2005, la famiglia Ishimeka può dire che neanche per un momento, neanche per un secondo si è più sentita da sola. Sono felice di aver vissuto questa esperienza che mi ha dato modo di riflettere, ma anche di divertirmi. Non dimenticheremo le persone che abbiamo incontrato. Le mafie non hanno paura né dei giornalisti, né degli spiriti, né dei magistrati, ma hanno paura della politica e sarà un esercito di insegnanti a sconfiggere le mafie. Grazie.